benvenuti al meteo di tele nuova queste le previsioni del tempo per domani venerdì 15 gennaio venti impetuosi di maestrale su quasi tutta la penisola al mattino previsti temporali sulla campagna piogge anche su marche abruzzo ma di minore intensità dal pomeriggio piogge diffuse anche su calabria e sicilia peggioramenti anche sulla puglia ma dalla sera neve sull'appellino romagnolo sopra i 150 metri nello specifico eccoci in campagna l'arrivo della parte più attiva del fronte determina spiccate condizioni di instabilità dapprima su tutta la regione poi man mano soltanto sulle parti basse della stessa cominciano a scendere le temperature venti forti meridionali il mare molto mosso